Ciao ragazzi della Formica Argentina, sono Stefano Piergiovanni, ideatore e organizzatore di VVLestero.com e oggi vi voglio parlare di Malaga, dove sto vivendo in questo momento, e della costa del Sol, cioè tutta la costa bassa della Spagna. Vi parlo di Malaga perché ho notato che in questa zona il turismo sta crescendo molto, per cui sta offrendo nuove posizioni lavorative per chi è esperto nel turismo o per chi vuole lavorare in hotel e in ristoranti, ma è anche un'ottima destinazione per chi vuole aprire una nuova attività, aprirla o rilevarla, prendere in gestione. Perché? Perché i prezzi sono ancora molto contenuti e stanno crescendo, quindi anche sotto l'aspetto finanziario potrebbe essere un ottimo investimento. In più, visto il crescente numero anche di turisti che di anno in anno va aumentando, può essere sicuramente una buona opzione per chi vuole investire all'estero. Per questo motivo, insieme ai miei colleghi, abbiamo deciso di creare dei progetti appositi per chi vuole investire qui, senza alcun rischio, perché li mettiamo in contatto con i migliori commercialisti della zona, che parlano anche italiano e li portiamo a vedere le migliori attività che sono disponibili in questo momento in base al budget e alla tipologia e al settore dell'attività che una persona interessa. Quindi diciamo che è un pacchetto completo che vi aiuta in tutto e per tutto. Invece, se volete cercare lavoro, la cosa più importante è sicuramente avere un curriculum in lingua spagnola, generalmente il curriculum spagnolo è simile a quello italiano ma tradotto in spagnolo, oppure per lavorare nelle destinazioni, nelle destinazioni nei locali gestiti da scandinavi o da inglesi, che sono molto presenti in zona, si può avere un curriculum vitae in lingua inglese utilizzando il modello anglosassone. Per qualsiasi informazione maggiore sul curriculum, su come tradurlo e ottimizzarlo per questa zona, potete contattarmi all'indirizzo admin-dbls.com e invece per quanto riguarda le attività, se volete investire qui a Malaga o nella Costa del Sol, potete scrivere all'indirizzo email info-go-to-the-costodelsol.com e vi risponderemo con le informazioni migliori per il vostro caso. Io vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video da un'altra destinazione. Ciao ragazzi!